Oggi vedremo come fare uno speech perfetto. Naturalmente se vuoi vendere il tuo prodotto, qualunque prodotto esso sia, hai bisogno di comunicarlo alle persone. E quale modo se non il video? Se nel posto giusto per scoprire come scrivere uno speech perfetto. Cos'è uno speech? Praticamente è lo svolgimento, un discorso che tu farei alle persone come sto facendo io in questo momento direttamente a te che sei dall'altra parte dello schermo. Per cercare di incuriosire e vendere il tuo prodotto. Devi sapere che il funzionamento del video è un po' come il funzionamento di un funnel, quindi devi seguire dei punti fondamentali per riuscire ad ammaliare la persona. Ricordati che sui social network al giorno d'oggi l'attenzione è calata ancora di più. Cala ogni anno drasticamente sempre più verso il basso. Quindi tu hai pochissimi secondi per riuscire a catturare l'attenzione del tuo futuro cliente. Come ti ho già detto l'altra volta, nell'altro tutorial c'è anche la possibilità una volta finito il video di aggiungere i sottotitoli. In questo modo riuscirai anche tramite le parole a chi non ascolta il video ma lo sta solamente guardando magari in un luogo affollato senza l'audio far capire di che cosa stai parlando. Sicuramente avrai fatto caso che quando sei sui social network i video che più attirano la tua attenzione sono quelli che iniziano ponendoti un problema e quel problema tu ti ci rivedi subito. Ti faccio un esempio, ti hanno sempre detto tutti quanti che non sarebbe stato possibile fare un video professionale con i tuoi mezzi. Attenzione, anche io la pensavo così ma poco a poco ho capito che non era vero perché la tecnologia è andata avanti tantissimo. Ho una soluzione per te, ho trovato dei metodi, delle applicazioni che ti permetteranno realmente di esprimere la tua creatività, far conoscere il tuo prodotto ad altre persone, potrai farlo in autonomia. Cosa devi fare? È molto semplice, segui questi tutorial che ho preparato per te. Seguendo questi tutorial riuscirai a creare un contenuto video come quello che stai venendo adesso semplicemente col tuo smartphone. Che cosa stai aspettando allora? Registrati al canale, fallo subito e non perderti neanche una puntata dei nostri video gratuiti. Non perde l'altro tempo e inizia già da adesso ad imparare come diventare un videomaker e montarti da solo i video con me li monto da solo con Andrea Lioci. Quindi ricordiamoci questi quattro punti fondamentali che sono quattro. Individuare il problema nel quale il nostro cliente si può rivedere. Dire che noi ce l'abbiamo fatta a risolvere quel problema. Ma offrire la soluzione, perché io ho offerto una soluzione a questo problema, e fare una chiamata all'azione. Quindi iniziamo già con questo, con questi quattro punti fondamentali noi possiamo già riuscire ad andare a strutturare un discorso per un video. Adesso prendetevi tutto il tempo di cui avete bisogno, cercate di scrivere un testo, perché con il tutorial che abbiamo fatto prima sappiamo già come andare a costruire questo video, quindi piano piano lo andremo ad abbellire. In che modo? Naturalmente partendo da una sigla. Nella prossima puntata andremo ad analizzare un sito molto divertente, che è Panzoid, che ci permetterà di farci un'introduzione molto figa da sola, semplicemente sul web, senza avere grossi strumenti. Alla prossima puntata! Alla prossima puntata!